Siamo qua a Milano davanti a una caserma che il Governo e il Comune di Milano vorrebbero trasformare in qualcos'altro. Quello che vogliono trasformare è in un ricovero per clandestini, atteso che secondo Alfano l'82% di quelli che arrivano in Italia sono clandestini e solo il 18% sono profughi, diventerà un ricovero di clandestini, per cui invece di avere una caserma avremo un ricovero di clandestini nel centro di Milano, perché qui siamo nel centro di Milano e la gente vedrà uscire, entrare con tutto quello che puoi immaginare, clandestini, qui ci possono mettere dentro mi dicono fino a 5.000 persone, quindi si immagina un po' che cosa succederà, l'immaginazione L'immaginazione non è tanta immaginazione, perché basta andare in giro per Milano e l'immaginazione si vede subito, conceranno pure questa via che era tranquilla, era una zona abbastanza, è in un inferno. Come regione potete fare qualcosa? Oggi, adesso io sono arrivato un po' in ritardo perché in regione hanno risposto a un'interrogazione che ho presentato su questo. La cosa è che la conferenza Stato-Regione gli chiederà un incontro con il Ministro Alfano per tutte queste situazioni, anche per capire i numeri, perché qua i numeri ormai non si sa più, anche per capire la questione dei rimpatri, perché noi stiamo parlando sempre di accoglienza, ma se l'82% sono clandestini e solo il 18% profughi, questo 82% viene rimpatriato o no? Perché se questi rimangono anche in Italia, allora va bene, abbiamo tutto qua. Quindi vi hai dato il foglio di via? Il foglio di via non serve a niente, io le ricordo che Cabobo era a Milano perché era scappato, aveva fatto ricorso al Taro contro il decreto di espulsione e stava in Italia. E quella mattina ha massacrato tre milanesi e ammazzati, ora a colpi picconati sulla testa. Se dobbiamo avere tanti Cabobo è meglio che ce lo dica, perché così ci attrezziamo e insomma ognuno chiede il portodarmi, non lo so, dobbiamo… La gente del quartiere dovrebbe dare una risposta, non solo quelli di centrodestra. Il quartiere ha già dato una risposta, ha raccolto più di 3 mila firme, faccia un po' il conto, più di così. Il problema è che cosa può fare il quartiere, mica può occupare la caserma. Ma secondo lei ci sono degli ordini dall'alto, dal governo? Voi è una questione soltanto milanese di sala? No, no, qui c'è un ordine preciso del governo, del ministro di interni, ci sono tre immigrati, tre clandestini per ogni mille abitanti. Quindi ogni città, noi ne dobbiamo prendere almeno altri 4 mila, secondo il conto che ha fatto, questo è il conto di Alfano, riportato dalla Corriere della Sera, quindi non sono numeri che sto dando io, sono numeri che sono su Corriere della Sera dell'altro ieri. Tre clandestini, lui dice immigrati, io dico clandestini, per ogni mille abitanti. Milano ha un milione e duecentomila abitanti, fate un po' il conto e vedete quanti ce ne devono mandare ancora, quindi si fanno presto, i conti sono questi, ci sono altri 4 mila che devono arrivare, dove li metteranno non lo sanno manco loro, però arrivano, li metteranno qui dentro, perché qui mi dicono, come ho detto prima, che se ne possono stare anche 5 mila, per cui a voi.